Buongiorno a tutti amici, eccoci ritrovati qui con un nuovo video. Questo video non so se uscirà prima di Natale o dopo Natale, non lo so ancora. Comunque vi volevo far vedere che ho il regalo che ho ricevuto per Santa Lucia. Per chi non la conoscesse, Santa Lucia è una festa che si festeggia il 13 di dicembre e si dice che c'è questo santo che è senza occhi e poi non so più niente. Non la so la storia, insomma, questa leggenda. Per chi è interessato cercatelo voi su internet, magari scrivetelo qua nei commenti, mi documenterò anch'io. So solo che è questa santa che non aveva gli occhi e l'ha chiamata Santa Lucia. Quella sera lì mi è arrivata appunto Santa Lucia e mi ha portato queste cuffie wireless della marca di Music Sound. Vedete qui c'è scritto Music Sound, sono bluetooth, come potete vedere. Posso anche attaccarci le cuffie, ma per il momento me le sto godendo un sacco. Questo colore per me mi piace molto. Si possono anche allungare, ecco di qua e di qua. Però comunque io che ho la testa non tanto grande, piccolina, ci stanno così. Me le metto qua. Ecco qua. Il volume si sente pochissimo dal di fuori, senti molto molto la musica. E quello che c'è esternamente non si sente tanto. Sono anche molto pratiche. Le ho utilizzate addirittura ad andare a Merano. Me le sono appoggiate qua e erano comodissime. Anche durante il viaggio non mi hanno dato per niente fastidio. Si possono utilizzare anche per fare le richiamate. Se vi chiamano, se siete collegati col telefono, ovviamente. Se siete collegati con un altro apparecchio, no. Comunque sono fantastiche. Possono essere collegate ovviamente anche con la Playstation, con i videogiochi. Sono molto leggere. Infatti l'unica cosa è che non si piegano perché non lo so, non c'è un astuccio o niente. Comunque la distanza del Bluetooth sono fino a 10 metri dal tuo dispositivo. Si sente fino a 10 metri. Fino a 10 ore di ricarica. Durano fino a 10 ore. Infatti io da quando le ho comprate a Santa Lucia, le ho ricaricate solo una volta. Il giorno stesso che mi sono arrivato, ovvero il 13. E non le ho ancora ricaricate. Funzionano ancora benissimo. Sono super super cariche. E niente. Sono fantastiche. Cosa devo dire? Sono molto leggere. Le ho messe anche nel mio zaino. Me le porto sempre in giro. Queste cuffie verranno sempre sempre con me. Perché per me la musica è una cosa necessaria. Che ci vuole sempre sempre sempre. Che in qualsiasi momento si può ascoltare la musica. Anche se sei dal dottore che stai aspettando. Sei in posta. Sei in giro. Sei al ristorante. No dai al ristorante no. Però ci sta. La musica può essere ascoltata in qualsiasi momento della vostra giornata. Che vi consiglio di farlo. Che cos'è caduto? È caduto il mio zaino. E quindi vi consiglio. Ve la consiglio la musica. Ve la consiglio tanto tanto tanto. E non so appunto quando uscirà questo video. Ma vabbè. Lo faremo uscire prima o poi. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!